Vuoi dare un piccolo contributo per la ricerca sulle malattie genetiche? Sì! Ogni anno è un piacere e un orgoglio dare il nostro contributo a Teleton perché dai piccoli gesti che si ottengono i grandi successi un grosso in bocca al lupo al nostro fenomeno Antonello Da quando tu sei entrata dentro me ho capito che non era bello niente Anche noi stiamo con Teleton Anche noi stiamo con Teleton Che forza! Eccolo qua! Lui è Antonello Migliorelli Che fai quotidianamente? Qual è il tuo incarico? Sono addetto alle vendite Addetto alle vendite, benissimo E invece tu sei un cantautore Sì I tuoi compagni di lavoro lo sanno però E quindi tu canti tutto il giorno, stornelli in giro Sì, ogni tanto devono anche subire questo mio cantare E noi lo subiremo molto volentieri questo pomeriggio Però sarà proprio la tua madrina a darti là Che cosa ci ha preparato Antonello? Ci farà ascoltare Gianna di Rino Gaetano Antonello Migliorelli Grazie Gianna Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tese illusioni Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti più Gianna, Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore Ma la notte e la festa è finita E viva la vita La gente si speste e comincia un mondo Un mondo diverso Ma tanto di sesso E chi vivrà, vivrà Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo big malione Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione Gianna, Gianna, Gianna non credeva canzoni o ufo Gianna, 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 Gianna è un fiuto eccezionale Per io il cartufo E viva la notte e la festa è finita E viva la vita La gente si speste e comincia un mondo Un mondo diverso Ma questo è chi vivrà, vivrà E viva la vita Grazie Grazie Stupendi tutti quanti Ed è stato anche bellissimo fare un omaggio a Rino Gaetano Perché queste sono delle canzoni che fanno parte proprio della nostra storia Tutti quanti l'abbiamo canticchiata almeno una volta nella vita Allora, Antonello Migliarelli La sua madrina Ma soprattutto la solidarietà di Teleton Perché il gruppo SMA è con noi E quindi voi potete andare anche adesso Cioè, fate e chiamate il 48548 Poi quando uscite per fare i vostri acquisti, la spesa eccetera Ricordatevi che si può fare un gesto anche proprio alla SMA Quindi fatelo, fatelo, fatelo Allora, grazie a tutti quanti Grazie ad Antonello Grazie a Simona Grazie al nostro colpo di ballo Grazie a tutti